A Mottola in provincia di Taranto si è svolto un convegno dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio rupestre. Sentiamo. E' uno dei patrimoni simbolo di Puglia e Basilicata, paesaggi che raccontano luoghi intrisi di storia, tradizioni ed emozioni. Sono le gravine a cui è stata dedicata una due giorni, ospitata a Mottola nel Tarantino, nel corso della quale rappresentanti del mondo accademico e della ricerca ed esponenti delle istituzioni si sono confrontati per guardare al futuro culturale e turistico orientato alla valorizzazione del patrimonio rupestre, evidenziando la necessità di affiancare allo studio archeologico i nuovi temi legati alla comunicazione e alla gestione del patrimonio culturale per cogliere le sfide che il PNRR ha lanciato. L'obiettivo è migliorare l'ambiente rupestre esaltandolo nella sua unicità attraverso il suo studio. In Puglia, nel nostro territorio, il patrimonio rupestre rappresenta sicuramente una testimonianza particolarmente significativa di un periodo, il periodo bizantino, che diciamo non sussiste in maniera altrettanto consistente e significativa più nelle architetture erette e pertanto è molto importante continuare a studiare e continuare ad approfondire tutte le questioni che ruotano intorno a questo tipo di patrimonio.